Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di TV6. L'alta pressione nordafricana domina in contrastata sul Mediterraneo centrale e sulle regioni del centro e del sud Italia, mentre il nord subisce l'attacco di aria leggermente più instabile da ovest, dalla Francia, dall'Atlantico prima ancora, aria che porta dell'instabilità, quindi dei temporali, qualche isolato acquazzone. Nel corso di questo giovedì 23 giugno, stabile su tutto l'Abruzzo, avremo cieli prevalentemente sereni al mattino, poi nubi in rapido aumento, ma si tratterà di vedature ricche di pulviscolo sariano che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature non subiranno grandi variazioni, al più un lievissimo aumento, le massime oscilleranno tra i 32 e i 34 gradi, minime tra i 18 e i 24 gradi, quindi valori minimi destinati a salire ulteriormente. Aumenterà anche l'AFA per effetto di un maggior tasso di umidità lungo i tratti costieri a rilosso dei fiumi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.